Oroscopo della settimana, dal 30 settembre al 6 ottobre 2024. Ariete. In amore, la settimana parte con qualche tensione, ma il weekend promette serenità. Sul lavoro, evita decisioni impulsive e cerca di pianificare meglio il futuro. Toro. L'amore richiede più attenzione e cura per evitare incomprensioni con il partner. Sul lavoro, è il momento ideale per definire nuovi obiettivi professionali. Gemelli. In amore, riscopri la passione in una relazione che sembrava spenta. Nel lavoro, la tua creatività sarà la chiave per sbloccare nuove opportunità. Cancro. Le stelle favoriscono momenti romantici e gesti inattesi in amore. Sul piano professionale, potresti ricevere una proposta interessante da non sottovalutare. Leone. In amore, cerca di dedicare più tempo al partner e meno ai tuoi impegni. Nel lavoro, ottimi risultati arriveranno grazie alla tua determinazione e leadership. Vergine. L'amore richiede più empatia e comprensione per evitare distanze emotive. Sul lavoro, la settimana si preannuncia impegnativa ma ricca di soddisfazioni personali. Bilancia. Settimana piena di dolcezza e complicità con il partner. Nel lavoro, l'equilibrio che cerchi finalmente si realizza, portando nuove opportunità. Scorpione. In amore, dovrai chiarire una situazione ambigua per ritrovare serenità. Sul lavoro, affronta i problemi con calma e non lasciare che lo stress prenda il sopravvento. Sagittario. L'amore prende una piega inaspettata, con nuove emozioni all'orizzonte. Nel lavoro, è il momento di osare e prendere decisioni coraggiose. Capricorno. In amore, piccole sfide rafforzano il legame con il partner. Sul lavoro, perseveranza e dedizione porteranno risultati concreti e riconoscimenti. Acquario. L'amore ti sorprende con una ventata di novità e nuove conoscenze. Nel lavoro, non lasciarti frenare dai dubbi, i progetti a lungo termine sono favoriti. Pesci. Settimana serena in amore, con momenti di dolcezza e complicità. Sul lavoro, mantieni alta la concentrazione, i dettagli faranno la differenza. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie. 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 Grazie.